I 250 migranti privi di documenti che occupano una chiesa nel centro di Bruxelles hanno sospeso lo sciopero della fame in corso del 23 maggio. Sebbene i dettagli precisi del loro nuovo accordo con il governo belga siano sconosciuti, gli scioperanti affermano di comprendere che le richieste di asilo verranno accolte per motivi umanitari. Questi elementi daranno la possibilità agli scioperanti di stabilizzare la loro situazione in modo duraturo, anche per ottenere il ricongiungimento familiare. Ci sono elementi che consentono loro una regolarizzazione. Molti degli uomini che sono qui hanno vissuto e lavorato in Belgio per anni, ma temono l'espulsione se affrontassero da soli la procedura di richiesta d'asilo. Ci sono anche 200 uomini in due università a Bruxelles. La coalizione al governo in Belgio è quasi caduta per questo motivo. I partiti verde e socialista hanno minacciato di ritirarsi se la situazione non fosse stata risolta. Il ministro federale dell'immigrazione afferma di aver istituito una zona neutrale in cui è possibile elaborare il dossier. Non si tratta di vincere o perdere. Sono contento che le persone si siano fermate, perché migliorerà anche la situazione di quelle persone, perché la salute di quelle persone è quello che mi preoccupava di più. Queste persone sono esauste, ma la loro protesta non è finita. Sperano che la situazione si sia risolta, ma rimarranno nella Chiesa finché non saranno al sicuro. Rimarremo qui fino a quando i dossier non saranno adeguatamente trattati e ognuno avrà la risposta che spera. Gli scioperanti dicono che la loro guerra sarà vita solo quando tutti i partecipanti avranno ottenuto un permesso di soggiorno.